Perfetto a la la che la 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 che Sì, c'è. . . . . . . . . . ma non so bene come aiutarti se mi si carica il mana si e che ora mi si è caricato adesso adesso non ho guardato 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 comando cazarina mi stai facendo pente tu tu Sto giocando solo tu e tu e Marco 2000 gold aspetta Ho preso S Marco Basta Gino voglio spendere i soldi No basti voglio farmi il console Ah no Gats Fuggi Gino! Ah, ok. Quella roba?